un momento alto ragazzi che bello ha fatto cadere? no ha fatto cadere? Non ti vedo, ma l'ha fatto cadere, l'ha fatto cadere, vabbè, c'è un po' di no, così, spieghi, no, sto sbagliando, vabbè, buce di me, e non è così, no, ma è però bravo con quella macchina, più o meno, sicuro? Ciao! No, vediamo quanto fa. Per valeggiare la macchina delle cincane, ricordiamo ancora una volta il prezzo del biglietto, quindi 5 euro, noi investiamo qui all'alimento stop. Perciò, Domenico è già in fase di vietro. Un minuto e cinque, manco due minuti ancora, eh. Un minuto e cinque.